Margaret M. Ma che vorrà di M? Mignota. Mignota? Non c'è, andiamo se ne viaghi, in divisa ce restano qua. Sì, mo' ce fucilano, ma che te frega, ormai ce stiamo. Un attimo, non si divertimo. Dai, dai, fa lo sguardo acuto e profondo. Ma tutte e due non mi vengono. E fa quello che ti ricordi di me. È profondo, io faccio. Dai, 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 io sono. Sta dritto, sta dritto, mettegli a paura. Perquisizione a tutti quanti nuti contro il muro. In nome della legge, capito? Era uno scherzo, signora. Ma che sei tu? Le faccia fatta che non si aiutava, mannuccia. Signora. Ma che faccia hai fatto? Ma che ne so, signora. Signora? Mannaggia. C'è nessuno in casa? Margaret? Signora. Margaret? Ma che è Margaret? È lei, Margaret. Sei sicuro? Ma che ne ha, vedi? È lei? Eh sì. Ammazza, pare un uomo. È terribile. C'è pure la parrucca. Puri. Guardate. Signora Margaret? Oh, questa non rinviene. E allora? Tocca fare la respirazione bocca a bocca. Oh, io no, eh? E che io? Aspetta, c'ho un'idea. Mannaggia, a te è quando ti ho seguito. Signora, signora, mannaggia. Ma che fai? Lo so io. Aspetta. Qua cartigienica. Sì, sì, cartigienica. Sì. Intanto. Dai. Intanto aprigli la bocca. Ammazza i denti, ho pare un trichego. Sbrigati. Ma che stai a gonfiancanotto, stai? Oh, io dopo, non passa. Sbrigati. Tu intanto fai il massaggio cardiaco. Sì. Oddio. Che è stato? Eh, una costola. Mazza, molla, è pure fratturata. Ma che ne so, mannaggia. Guardate. Intanto vai a prendere un bicchier d'acqua. Che tragedia. A quanta metta? Due e due? E non fa lo spiritoso. Lei, vai. Signora. Ma che ha fatto? Ma che si scelta? Ma perché? Che dovevo fare? Ma che gliela diri in faccia? Era per farla bene, no? Calma, calma. Tutto bene, tutto bene. Stia tranquilla, signora. Né niente. Guardi l'uccellino. Ma che gli fa l'uccello? Sì. Andiamo via. Sì, tranquilli, signora. Non è successo niente. Abbiamo indagato, lei risulta incesturata, tutta a posto. Non c'è niente, non c'è niente. È vero, ma lì incesturata. Non c'è la voglia. Andiamo, va. Andiamo, va. Ci scusi il disturbo, signora. Vuoi sai che se ci arriva andavamo sotto processo? Andiamo, guarda. E poi una così. Io che ne sapevo. Cinque acce aveva sul giornale. Ma vabboli ammazzato, va. Siano, non strillano.